E' un viaggio nel verismo, quello proposto quest'anno dal Sicilia Classica Festival nella panoramica cornice del Teatro Antico di Tormina. Cavalleria Rusticana di Mascagni, Pagliacci di Leoncavallo e La Carmen di Bizet sono infatti le tre opere classiche che verranno portate in scena da un cast composto prevalentemente da giovani professionisti con la regia di Salvo Dolce e la direzione artistica di Nuccio Anselmo. Tre tappe che hanno in comune, spiega il presidente del Sicilia Classica Festival, Francesco Cipri, un epilogo finale non felice e che scandagliano tematiche purtroppo ancora attuali, quali sono quelle afferenti alle relazioni insane e all'incapacità di gestire le emozioni negative. Il via domani, 20 settembre alle ore 21, con una rappresentazione innovativa di Cavalleria Rusticana cui seguirà quella di Pagliacci sempre nella stessa serata. Sarà una cavalleria rusticana molto danzata, anticipa la coreografa Stefania Cotroneo a differenza di come concepito più classicamente. Il pubblico si stupirà nel vedere sedie e simulare cavalli o giacche e prendere vita. Avrà un'atmosfera visionaria, aggiunge il regista Salvo Dolce, facendo riferimento all'opera di Mascagni. Mi sono molto soffermato sulle suggestioni musicali di ogni singolo quadro e le conseguenti visioni simboliche che si tramutano in immagini sceniche fatti di gesti rituali evocati dal coro dal corpo di ballo. Il pubblico vedrà un'eleganza siciliana antica ma non rurale. Dopo il successo da Sold Out nella prima recita lo scorso 19 agosto all'Anfiteatro Villa Mare di Terrasini, a Tormina l'opera vedrà anche la partecipazione del piccolo coro Città di Tormina, ovvero di 60 bambini tra i 6-14 anni diretti dal maestro Ivan Lo Giudice.